Si è svolto presso la Regione Marche il seminario Il Futuro si costruisce adesso, primo incontro tra istituzioni e partenariato in vista della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Questo appuntamento molto atteso da tutte le parti coinvolte rappresenta l'avvio di una fase di confronto, ascolto e dibattito per condividere il quadro attuale, le aspettative e le possibili previsioni per il lavoro. La mattinata si è aperta con l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Marco Lucchetti che ha confermato per le Marche fondi comunitari per circa 570 milioni di euro, un volano eccezionale di risorse che dovranno essere utilizzate per creare strumenti di collegamento tra lavoro e giovani in una prospettiva sempre più calata nell'economia reale, attenta all'inclusione sociale e alle peculiarità specifiche della Regione. A seguire il valutatore esterno Giuseppe Fiorani dell'ATI Fondazione Brodolini-IRS ha illustrato valori e parametri delle Marche che pur presentandosi migliori rispetto alla media nazionale ed europea, rivelano ancora alcune criticità legate alla situazione generale con particolare attenzione ad alcuni comparti produttivi in evidente sofferenza. L'Unione Europea individua tra i parametri prioritari di intervento per i prossimi sette anni la lotta alla disoccupazione giovanile e al lavoro sommerso, l'integrazione delle fasce più vulnerabili, il miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione, l'ammodernamento delle istituzioni, la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'efficienza del sistema giudiziario. Le relazioni sul quadro europeo, nazionale e regionale sono proseguite con l'intervento di Mauro Terzoni, autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo della Regione Marche, che ha fornito spunti e riflessioni per il nuovo periodo di programmazione alla luce del contesto comunitario. Il tutto è stato collocato all'interno dei parametri proposti per l'Europa 2020, suddivisi in macro aree di intervento in cui si inseriscono le azioni del Fondo Sociale Europeo, con un approccio operativo e sempre più integrato con altri fondi strutturali. Una condizione questa necessaria per ottenere gli obiettivi di efficienza della spesa auspicati e una spinta positiva data da un miglior accesso al credito e dalla diminuzione della spesa assistenziale a favore di quella per lo sviluppo. Molto intenso, partecipato e dinamico è stato il momento dedicato al dibattito con i rappresentanti del partenariato istituzionale ed economico-sociale. Numerosi sono stati gli interventi, alcuni programmati, altri scaturiti dal racconto degli stessi protagonisti. Ognuno per la sua esperienza ed il suo ruolo ha evidenziato in modo pertinente e concreto vari aspetti che dovranno essere considerati nell'individuare le priorità della prossima programmazione. Ascolto, confronto, dibattito e costruzione sono le parole chiave di un nuovo modo di intendere il nostro futuro che deve essere frutto di scelte condivise, derivate quindi dall'esperienza sul campo di tutti gli stakeholder coinvolti, amministratori, imprenditori, rappresentanti delle associazioni, educatori, formatori ed operatori. Per ottenere il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 è necessario ricercare la costruzione e il consolidamento di un partenariato di qualità nella condivisione di una visione comune, sia da un punto di vista progettuale che operativo. A conclusione dell'evento, l'assessore Lucchetti ha riepilogato tutti gli spunti emersi, confermando che le risultanze della giornata costituiranno il punto di partenza per la predisposizione di un documento di orientamento strategico che rappresenterà la base per la redazione del nuovo programma operativo Fondo Sociale Europeo della Regione Marche.